Si è tenuto questa mattina un incontro pubblico per parlare di raccolta differenziata, il progetto di educazione ambientale per promuovere il porta-porta introdotto dall'amministrazione Ottaviani. In Piazzale Europa, personale specializzato presente con un punto informativo per spiegare e presentare le modalità di raccolta, rispondere a domande e dubbi, recependo inoltre eventuali suggerimenti per migliorare ulteriormente il servizio. Già nei mesi scorsi è stato predisposto un fitto calendario di iniziative di divulgazione con l'assessorato all'ambiente coordinato da Massimiliano Tagliaferri. I tecnici dell'ufficio comunale e gli esperti della devizia S.p.A. hanno infatti illustrato agli alunni degli istituti primari del capoluogo, mediante un coinvolgente spettacolo interattivo, l'importanza della corretta separazione dei rifiuti per la tutela dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile. Le scuole secondarie, invece, hanno operato dei seminali suddivisi in una parte teorica, condotta con l'ausilio di slide, e una parte dimostrativa, con tanto di separazione e pesatura degli scarti.